I 135 licenziamenti annunciati dal gruppo Conad nei punti vendita di Città Sant'Angelo, Ortona e Colonnella preoccupano e non poco sindacati, lavoratori e sindaci dei comuni interessati. Si tratterebbe di un taglio pesantissimo, l'ennesimo nella grande distribuzione, dopo la chiusura, ad esempio, dei punti vendita del Mercatone 1. Ieri pomeriggio c'è stato un vertice nel municipio di Città Sant'Angelo tra il sindaco angolano e quelli di Ortona e Colonnella, assieme alla regione Abruzzo, in cui sono stati stabiliti i prossimi passi che verranno fatti dalle istituzioni. La prima che andremo ad intraprendere, l'impegno che si è preso l'assessore, è proprio quello di un incontro regionale con anche il collega, l'assessore Febo, proprio con Conad per iniziare ad interloquire sindacati e Conad. Noi sindaci saremo, mi auguro, spettatori perché dobbiamo vigilare su quella che è la tranquillità della nostra comunità. I sindacati, da parte loro, sono convinti che gli eventuali esuberi per cui è stata già attivata la procedura dal gruppo ERA, proprietaria degli Iper, rilevati dal gruppo francese Oshan, possono essere riassorbiti nel gruppo Conad Adriatico, che vanta numerosi punti vendita sul territorio abruzzese. I rappresentanti dei lavoratori raccolgono la preoccupazione dei dipendenti e attaccano la strategia commerciale usata per il rilancio degli Iper, rilevati un anno fa. Noi siamo preoccupati perché riteniamo innanzitutto che questa procedura arrivi assolutamente troppo presto. Conad ha rilevato questi tre Ipermercati meno di un anno fa, è evidente che in una situazione come questa, in cui subentra un'azienda nuova, un marchio nuovo, ci possa essere un primo momento di assestamento e quindi questi esuberi arrivano sicuramente troppo presto. Conad ha fatto un investimento, però non ha portato una strategia commerciale efficace e se ci sono dei dati negativi sicuramente sono addebitabili alle strategie commerciali di Conad e non certo ai lavoratori che dovrebbero pagare. Questa avvertenza è pronta anche ad entrare nel lagone politico nazionale con diverse interpellanze che verranno presentate dai parlamentari abruzzesi nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è l'interesse, noi ci rivolgiamo a tutte le istituzioni e alla politica. La strategia di Conad è questa, ragiona in un'unica società che si trova a Mozampolo dove è la sede di Conad Adriatico, quando però si tratta di assumersi le responsabilità sociali degli effetti delle loro procedure, si difendono e si nascondono dietro i dettaglianti che stanno sul posto. Noi dobbiamo superare questo perché non è possibile che l'azienda tratti le persone come cose.